Scattate nell'Iowa le primarie del partito repubblicano che dovranno designare il candidato che andrà a contendere la Casa Bianca all'uscente presidente Joe Biden, secondo un sondaggio Donald Trump viaggerebbe con una percentuale del 48% contro il 20% dell'ex governatrice della South Carolina, Nikki Haley, solo al 16% Ron DeSantis. Un risultato sorprendente quello dell'ex presidente se dovesse essere rispettato dalle urne, ma sul voto nell'Iowa pesano due incognite, il maltempo e il voto dei liberal. Grazie a tutti.